La Fashion Week sta arrivando Puoi essere parte anche tu della Milano Moda Ma hai un budget solo di 20 euro Per questo ti portiamo al mercato di PAPILANO Questa è veramente degna di no È tutto vintage Però ci sono veramente dei pezzi interessanti Questa A 20 euro Non la trovi da nessun'altra parte Ma bisogna ravanare Giubbotti di pelle Vediamo 20 euro Faccio una sfilata scusa Oddio Fatta Inquadra il brucolo Ed ecco come si misura la taglia Ci metti il braccino L'oggetto della giornata Ti sfido da braccio di ferro Per la Fashion Week va portata così Tutti completi per lauree, matrimoni Cioè avete già il completo fatto 49 euro Non ho capito se è realmente moda Oppure perché è quello che stavo fabbricando A un certo punto Ha starnutito A metà parecchio Ah per fortuna Scusami Scusami Questi pantaloni 10 euro Anche questa L'ho visto su Akin Kardashian Abbiamo trovato la bancarella definitiva Queste cose qua sono Tinko Liu Jo Questa è bellissima Circa 15 euro 20 euro Trussare Prendere il pattern Si chiama stampa Tipo nei vestiti Carino dai Ma questi qua sono Slit della fila 3 euro Sono degli ottimi libri Perché avere un libro Durante la Fashion Week Fa concetto Abbiamo anche la filosofia Quanto saresti signore Con questo qua Sì ho capito Ma è alto quanto me Te amo Tecchiero E tecchina dove C'è camicia fermata 10 euro Un po' moda Voi lo sapete Cosa ha Adel Davanti alla porta Mamma mia Può finire il video Grazie a tutti